In questo video verranno presentate le funzionalità principali del frontend carenze dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Dopo una breve introduzione al frontend procederemo descrivendo le modalità di accesso e le principali funzionalità offerte dall'applicativo. Successivamente ai punti 4, 5 e 6 forniremo maggiori dettagli operativi relativa all'apertura, alla modifica e alla chiusura di una carenza. Il video si conclude con alcune indicazioni di carattere generale. Questo video offre informazioni semplificate rispetto al manuale dedicato all'utilizzo del frontend che può essere scaricato una volta entrati nell'applicativo. Inoltre vengono fornite indicazioni specifiche sull'inserimento dei dati con alcuni esempi. All'interno del frontend è comunque prevista l'implementazione di una sezione di question and answer in cui saranno forniti ulteriori chiarimenti. Il frontend carenze è un'applicazione web che mette a disposizione dei titolari di IC le funzionalità necessarie per la trasmissione all'Agenzia delle comunicazioni riguardanti carenze e cessate commercializzazioni dei medicinali di propria titolarità. L'introduzione del frontend ha lo scopo di facilitare e velocizzare le comunicazioni relative agli stati di carenza dei medicinali commercializzati in Italia così da permettere all'Agenzia di attivare, in caso di necessità, tempestive azioni di mitigazione. La comunicazione tramite il frontend dovrebbe gradualmente sostituire l'attuale flusso tra titolari e AIFA in quanto le comunicazioni e gli aggiornamenti fornite tramite il frontend non devono anche essere inviati tramite PEC opposta ordinaria. L'attuale flusso prevede l'invio da parte del titolare delle comunicazioni di carenza con la successiva ricezione, protocollazione e smistamento da parte di AIFA. A queste eseguono la valutazione delle informazioni fornite dal titolare e l'inserimento, la modifica o la chiusura della carenza. Le informazioni raccolte vengono poi pubblicate con frequenza generalmente settimanale. Il flusso che si avrà dopo l'introduzione del frontend velocizzerà le comunicazioni e la loro gestione in quanto il titolare potrà inserire le informazioni direttamente nel frontend eliminando quindi la necessità di inviare una PEC. Le fasi iniziali relative a ricezione, protocollazione e smistamento da parte di AIFA avvengono praticamente in tempo reale, contestualmente al salvataggio da parte del titolare. È previsto quindi uno step di valutazione delle informazioni fornite dal titolare, eventuali modifiche delle stesse e poi lo step di convalida. Anche in questo caso è prevista la pubblicazione dell'elenco aggiornato con la possibilità di aumentare la frequenza di pubblicazione. L'introduzione del frontend carenze offre una serie di vantaggi come la velocizzazione delle comunicazioni da titolari ad AIFA, l'eliminazione di problematiche relative all'invio delle comunicazioni tramite PEC, la minimizzazione di errori nelle comunicazioni, possibilità per il titolare di avere facilmente a disposizione in uno stato aggiornato delle proprie carenze e la possibilità per l'agenzia di incrementare la frequenza di pubblicazione dell'elenco dei medicinali carenti. L'accesso al frontend può essere effettuato per gli utenti registrati e abilitati tramite il portale dei servizi AIFA. Alcuni riferimenti relativi alla neutralità di registrazione e di abilitazione degli utenti sono riportati nella parte finale di questa presentazione. Passiamo ora ad effettuare un overview delle funzionalità del frontend. Effettuato l'accesso tramite il portale di AIFA si procede successivamente alla selezione dell'applicativo di interesse. L'utente deve poi confermare il profilo di accesso e si arriva così all'home page della frontend carenze dell'agenzia. Questa pagina è visibile a tutti gli utenti abilitati con profilo azienda che si sono autenticati al sistema. Dall'home page è possibile accedere alle funzioni disponibili selezionando le voci corrispondenti dal menu ovvero nuova carenza, elenco carenze di propria titolarità e medicinali attualmente carenti. Da segnalare inoltre la possibilità di passare alla versione in inglese del frontend tramite l'apposita funzione. Cliccando invece sul pulsante guida al servizio è possibile scaricare il manuale dell'utente per l'utilizzo del frontend. Concludiamo l'overview descrivendo le funzioni elenco carenze di propria titolarità e medicinali attualmente carenti. Tramite la funzione elenco carenze di propria titolarità è possibile visualizzare l'elenco delle carenze inserite a sistema relative a medicinali di cui l'azienda che sta operando è titolare C. In pratica in questa lista ci sono tutte le carenze lavorato e lavorazione delle titolarità che l'operatore è abilitato a gestire. Inizialmente il sistema visualizza tutte le carenze del titolare ma è possibile effettuare una selezione mediante gli appositi filtri di ricerca. A destra di ciascuna carenza è possibile visualizzare il menu operazioni da cui è possibile procedere a visualizzare dettaglio carenza, modificare una carenza, chiudere una carenza. La funzione dettaglio carenza attivata dal menu operazioni visualizza per il titolare C i dati di una carenza precedentemente inserita. Si tratta delle medesime sezioni che vedremo durante l'inserimento di una carenza con la sola differenza che in questa funzione sarà possibile solo visualizzare le informazioni senza possibilità di effettuare modifiche. La funzione medicinali attualmente carenti consente di visualizzare l'elenco di tutti i medicinali carenti in quel momento, indipendentemente dalla titolarità dei medicinali. In particolare l'elenco visualizza i medicinali per i quali l'AIFA ha già convalidato uno stato di effettiva carenza. Lo stato delle carenze presenti nell'elenco carenze di propria titolarità è indicato da una serie di targhette di colore differente. Fondamentalmente gli stati visualizzati dai titolari sono quelli riportati in questa e nella successiva slide. Con aperta ZF si indica lo stato in cui si trova una nuova carenza inserita dal titolare prima della convalida da parte di AIFA. Le carenze in questo stato non sono ancora visibili tra i medicinali attualmente carenti, ne sono presenti in eventuali elenchi pubblicati prima della loro convalida. Con modificata ZF si indica lo stato in cui si trova una carenza modificata dal titolare prima della convalida dalla parte di AIFA. Le carenze in questo stato non sono ancora visibili tra i medicinali attualmente carenti, ne sono presenti in eventuali elenchi pubblicati prima della loro convalida. Con convalidata AIFA si indica lo stato in cui si trova una carenza inserita o modificata dopo la convalida da parte di AIFA. Le carenze in questo stato sono visibili tra i medicinali attualmente carenti e sono presenti in eventuali elenchi pubblicati dopo la loro convalida. Con richiesta chiusura ZF si indica lo stato in cui si trova una carenza chiusa dal titolare prima della convalida da parte di AIFA. Le carenze in questo stato non sono comunque più visibili tra i medicinali attualmente carenti, ne sono presenti in eventuali elenchi pubblicati dopo la loro chiusura. Convalida chiusura AIFA è lo stato in cui si trova una carenza chiusa dal titolare dopo la convalida da parte di AIFA. Con inserita ZF si indica lo stato in cui si trova una nuova carenza inserita dal titolare nel caso in cui non sia andata a buon fine la protocollazione. Le carenze in questo stato non sono visibili tra i medicinali attualmente carenti, ne sono presenti in eventuali elenchi pubblicati dopo il loro inserimento. Le carenze in questo stato devono essere finalizzate da AIFA con l'inserimento del protocollo e la successiva convalida. In questa slide sono descritti gli stati mostrati per quelle carenze gestite a front-end direttamente da parte di AIFA per conto del titolare a seguito di una comunicazione via PEC. Vediamo ora come si inserisce una nuova carenza. La funzione per l'inserimento di una nuova carenza viene attivata dalla selezione della voce di menu nuova carenza. Questa funzione consente di inserire i dati delle carenze di medicinali di cui l'azienda che sta operando è titolare. Alla selezione della voce di menu della funzione un oggetto il sistema visualizza la pagina per l'inserimento dei dati di una nuova carenza. I dati che devono essere indicati obbligatoriamente sono evidenziati in rosso e presentano un asterisco. L'inserimento di una nuova carenza è organizzato in tre sezioni anagrafica carenza, info carenza 1 e info carenza 2. Nella sezione anagrafica carenza l'utente deve selezionare della lista dei medicinali di cui l'azienda risulta titolare di IC il medicinale a fronte del quale registrare lo stato di carenza. Dopo la selezione della denominazione del medicinale il sistema visualizza l'elenco delle sue confezioni dal quale l'utente deve selezionare quella di interesse. Nel caso in cui per la combinazione medicinale confezione scelta sia già presente una carenza di lavorazione verrà segnalata all'utente che non è consentito inserire una nuova carenza per lo stesso medicinale. Una volta selezionato un medicinale che non sia già presente all'interno dell'elenco dei medicinali carenti è possibile passare alle successive sezioni per l'inserimento della nuova carenza. Nella sezione info carenza 1 è possibile inserire la data di inizio carenza, la data di fine presunta e selezionare da un menu a tendina la motivazione della carenza. Altro campo obbligatorio da riempire è quello relativo al dettaglio della motivazione della carenza o interruzione della commercializzazione. In questo campo vanno quindi inserite le informazioni previste al punto C della nota informativa pubblicata il 22 giugno 2020. A supporto di quanto dichiarato è possibile anche allegare documentazione idonea. Nel campo informazioni aggiuntive fornite dal titolare C è possibile inserire dettagli sulle date di inizio e fine, informazioni circa la durata indicativa della carenza nel caso in cui non si sia indicata una data di fine presunta. Inoltre è possibile inserire tutte quelle informazioni che il titolare ritenesse utile fornire all'agenzia. Nel campo eventuali informazioni sull'utilizzo del medicinale bisognerà inserire le informazioni richieste al punto H della nota informativa pubblicata il 22 giugno 2020. Con la funzione aggiunge allegato è possibile inserire i documenti che si vogliono fornire all'agenzia. Nel campo numero delle confezioni in giacenza al momento della comunicazione che è un campo obbligatorio andrà inserito un valore numerico relativo alle confezioni a disposizione al momento della comunicazione. Nel campo obbligatorio informazioni relative alla disponibilità di confezioni a copertura del periodo di preavviso andranno inserite le informazioni sugli stock alla data della comunicazione differenziati per canali di commercializzazione e sulle forniture eventualmente previste a garanzia dei fabbisogni nel periodo di preavviso. È possibile poi tramite l'apposita funzione inserire l'allegato relativo ai dati di vendita. Completati gli inserimenti relativi alla sezione info carenze 1 passiamo alla sezione info carenze 2. Qui è possibile fornire le informazioni relative agli equivalenti inserendo anche eventuali dettagli. È possibile poi fornire informazioni relative ai canali di commercializzazione e ai canali impattati dalla carenza. È possibile poi fornire indicazioni sull'eventuale titolarità di analogo medicinale autorizzato all'estero, informazioni aggiuntive circa l'eventuale titolarità di analogo medicinale autorizzato dall'estero, indicazioni circa l'eventuale disponibilità del titolare e C all'importazione dall'estero e indicazioni sull'eventuale impatto della carenza in altri paesi. Una volta completato l'inserimento è possibile procedere con il salvataggio della carenza inserita. L'applicativo con questo messaggio ci indica che l'operazione è andata a buon fine. La scelta della motivazione della carenza viene fatta tramite un menu a tendina che propone delle definizioni standardizzate. La motivazione inserita è tra le informazioni pubblicate da AIFA e nella fase di convaria della carenza viene valutata dall'ufficio in base alle informazioni fornite dal titolare e se necessario modificata. Per molte delle motivazioni disponibili è prevista anche l'indicazione del canale di commercializzazione eventualmente impattato dalla carenza. Di seguito la convenzione adottata dall'ufficio da applicare per la scelta della motivazione nell'inserimento delle carenze. Vediamo ora il caso di un medicinale commercializzato su entrambi i canali. Se la carenza impatta su entrambi i canali bisognerà selezionare la motivazione non riportante l'indicazione del canale, ad esempio problemi produttivi. Se la carenza impatta solo uno dei due canali bisognerà selezionare la motivazione riportante l'indicazione del canale impattato, ad esempio nel caso di una carenza dovuta a problemi produttivi che impatti solo sul canale retail e non anche su quell'ospedaliero bisognerà selezionare la voce problemi produttivi carenza relativa solo al canale retail. Nel caso di un medicinale commercializzato su un solo canale non deve essere specificato il canale impattato dalla carenza, ad esempio nel caso di una carenza dovuta a problemi produttivi per un medicinale commercializzato solo sul canale retail, bisognerà selezionare la voce problemi produttivi. Come comunicare le date per carenza che impattano su entrambi i canali ma con date di inizio e fine differenti? Nel caso in cui un medicinale sia carente su entrambi i canali di commercializzazione ma con date di inizio e o fine differenti, questa è la convenzione da adottare. Come data di inizio inserire la data relativa al canale che entrerà o è entrato in carenza per primo. Come data di fine presunta inserire la data relativa al canale che uscirà presumibilmente dalla carenza per primo. I dettagli su inizio e fine presunta della carenza per i due canali vanno inseriti nel campo informazioni aggiuntive fornite dal titolare C utilizzando le formule riportate nella presente slide e nelle slide successive. Qui si riporta la formula da utilizzare nel caso in cui la data di inizio carenza sia diversa per i due canali. In questa slide si riporta la formula da utilizzare nel caso in cui la data di fine carenza è diversa per i due canali mentre la data di inizio è la stessa. Qui si riporta la formula da utilizzare nel caso in cui la data di inizio carenza e la data di fine carenza siano diverse per i due canali. Come comunicare gli stock disponibili al momento della comunicazione per carenza che impattano su entrambi i canali? Nel campo numero delle confezioni in giacenza al momento della comunicazione che è un campo numerico andrà inserito il numero totale di confezioni disponibili sommando quelle destinate al canale retail e quelle destinate al canale ospedaliero. Nel campo informazioni relative alla disponibilità di confezioni a copertura del periodo di preavviso che è un campo di testo si può riportare il dettaglio delle confezioni eventualmente disponibili per i due canali. In questo campo è possibile riportare dettagli relativi agli stock, alle forniture attese successivamente alla data di comunicazione ed eventuali razionali circa la copertura dei fabbisogni nel periodo di preavviso. Il frontend offre la possibilità di caricare allegati, in particolare eventuali allegati integrativi per un massimo di 4 file e l'allegato relativo ai dati di vendita. È permesso il caricamento dei file con le estensioni qui riportate. Ogni file può avere una dimensione massima di 3 MB. Vediamo ora come si effettua la modifica di una carenza. Dall'elenco carenze di propria titolarità è possibile accedere alle funzioni di modifica e chiusura di una carenza. È possibile selezionare la carenza che si vuole modificare o scorrendo l'elenco o utilizzando i diversi filtri disponibili. Una volta selezionata la carenza di interesse bisognerà cliccare sul menu operazioni e selezionare modifica carenza. Il sistema apre la scheda relativa alla carenza ed è quindi possibile effettuare tutte le modifiche desiderate. Ad esempio si può modificare la data di fine presunta. Il sistema richiede obbligatoriamente anche l'inserimento del dettaglio della motivazione del prolungamento della carenza. Possono essere inoltre inserite anche informazioni aggiuntive nei diversi campi disponibili. È necessario fornire aggiornamenti relativi al numero delle confezioni eventualmente in giacenza ed eventuali ulteriori dettagli sulla disponibilità del medicinale nel periodo di carenza. È possibile allegare file anche in caso di modifica ed è possibile modificare se necessario anche le informazioni presenti nella sezione info carenze 2. Si procede quindi al salvataggio delle modifiche e il sistema ci indicherà se la comunicazione è andata a buon fine. In fase di modifica di una carenza è possibile modificare tutte le informazioni precedentemente fornite. Si ricorda che in caso di prolungamento della carenza è comunque necessario fornire informazioni dettagliate relative alla motivazione che ha causato il prolungamento della carenza. In caso di comunicazione tardiva i dettagli forniti dovranno evidenziare l'imprevedibilità degli eventi all'origine del prolungamento. Per tracciare velocemente le modifiche effettuate è consigliabile riportare nel campo informazioni aggiuntive fornite dal titolare EC le modifiche effettuate. Nel caso in cui fosse necessario rettificare le informazioni precedentemente fornite è richiesto di tracciare in maniera chiara quanto è stato oggetto di rettifica. Si deve procedere tramite la funzione modifica carenza e nel campo informazioni aggiuntive fornite dal titolare EC il titolare dovrà indicare rettifica e riportare le informazioni rettificate. Nel caso in cui il titolare evidenzi errori in una comunicazione appena inviata può comunque modificare quanto comunicato anche prima della convalida da parte di AIFA. Procediamo vedendo come si chiude una carenza. Una volta selezionata la carenza che si vuole chiudere dal menu operazioni si procede cliccando su richiedi chiusura. Si apre la scheda in cui è possibile inserire la data effettiva di fine carenza per poi procedere alla richiesta di chiusura. Il sistema ci indicherà se l'operazione effettuata è andata a buon fine. Una carenza potrà essere chiusa solo a partire dalla data effettiva di chiusura. Questo perché il titolare deve aver verificato l'effettiva ripresa della distribuzione del medicinale precedentemente carente prima di effettuare la comunicazione di chiusura di una carenza. Il sistema non procede a chiusure automatiche delle carenze in base alla data di fine presunta precedentemente comunicata e responsabilità dei titolari aggiornare lo status delle proprie carenze compresa la loro chiusura. Nel caso in cui sia necessario chiudere una carenza su un solo canale per un medicinale precedentemente in carenza su entrambi i canali non si deve procedere con la funzione richiedi chiusura che chiuderebbe la carenza su entrambi i canali ma tramite la funzione modifica carenza. In modifica carenza bisognerà modificare la motivazione, andrà ora specificato infatti il canale ancora impattato dalla carenza, modificare se è necessario la data di inizio inserendo quella relativa al canale in cui la carenza rimane aperta, modificare se è necessario la data di fine presunta inserendo quella relativa al canale in cui la carenza rimane aperta, è anche possibile prolungare la data di fine presunta, inserire un commento nel campo informazioni aggiuntive forniti dal titolare C specificando che si è chiusa la carenza su uno dei due canali e indicando le eventuali modifiche effettuate. In questa sezione riportiamo delle indicazioni di carattere generale. Andiamo a descrivere eventuali problemi che si possono riscontrare durante l'utilizzo del frontend e le possibili soluzioni da utilizzare. Nel caso in cui al momento del salvataggio di una carenza si registrasse un problema con il sistema di protocollazione, il frontend genera in maniera automatica un file PDF che potrà essere salvato sul proprio PC e successivamente inviato ad AIFA da Ramitepec. L'ufficio procederà poi successivamente a finalizzare nel frontend l'inserimento della carenza per poi convalidarla. A seguito dell'inserimento o della modifica di una carenza, il frontend potrebbe segnalare un errore con dei messaggi standard. In questi casi si invitano i titolari a verificare se l'inserimento è andato comunque a buon fine e a segnalare all'ufficio il problema riscontrato. È utile in questi casi documentare l'evento inviando lo screenshot della pagina del frontend riportante il messaggio di errore. Se per motivi tecnici il frontend non risultasse raggiungibile, non fosse possibile l'accesso o ne risultasse problematico l'utilizzo, i titolari sono invitati a segnalare il malfunzionamento all'ufficio tramite la casella di posta farmacicarenti.gov.it e le comunicazioni di carenza potranno essere inserite in un secondo momento o inviate via PEC all'ufficio. Se la confezione di cui si deve comunicare la carenza non è tra quelle disponibili nel frontend, il titolare dovrà segnalare l'evento all'ufficio indicando l'IC a 9 cifre non disponibili nel frontend. La comunicazione di carenza potrà essere inserita una volta che l'ufficio avrà segnalato la risoluzione del problema o inviata via PEC. I titolari sono invitati ad inviare all'ufficio tramite la casella di posta farmacicarenti.gov.it eventuali suggerimenti per ulteriori sviluppi del frontend. I suggerimenti proposti, dopo valutazione, verranno utilizzati per la definizione di nuovi requisiti del sistema e per migliorare le attuali funzionalità. Si sottolinea che la documentazione e le integrazioni fornite in risposta alle richieste di integrazione o alle contestazioni relative alle tardive o mancate comunicazioni non sono gestite tramite il frontend e dovranno essere inviate da titolari ad AIFA con le usuali modalità. Nelle successive slide si riportano le istruzioni per la registrazione e l'abilitazione degli utenti all'utilizzo del frontend. Grazie per l'attenzione.